Si è conclusa positivamente l'avvertenza DAICO che vede coinvolti circa 700 lavoratori dopo lungo lavoro in regione presso il Ministero dello Sviluppo Economico. DAICO Europe è un'azienda che produce cinghie di distribuzione per auto con stabilimenti a chieti, manoppello e colonnella. È stato infatti sottoscritto un accordo che prevede il rilancio della DAICO attraverso l'adesione al programma Horizon 2020, col quale lo Stato finanzia per il 50%, con la quota di risorse riservate all'Abruzzo, il progetto di investimento in ricerca di 4 milioni e mezzo di euro presentato dall'azienda. Nelle prossime settimane, insieme ai dirigenti regionali, si preciseranno tempi e modalità degli ulteriori investimenti che l'azienda si è impegnata a realizzare, soprattutto in materia di risparmio ed efficientamento energetico, finanziamenti che la Regione sosterrà, secondo le procedure di legge, con le risorse a disposizione.